Lisa Rowell. Alti e bassi diventano sempre più acuti. Gestisce lei i rapporti con le altre pazienti. Nessuna reazione apprezzabile ai farmaci. Non si rileva alcuna remissione dei sintomi. Era prima che tu scappassi via. Siamo molto rare, per lo più siamo maschi. Lisa si crede chissà che perché è una sociopatica. Anch'io sono sociopatica. Natus e lesbica. Sindrome da personalità borderline. Instabilità di immagine proprie, rapporti ed umori. Incertezza negli obiettivi, impulsività in attività che sono autodistruttive, tipo il sesso casuale. Niente male. Si riscontrano spesso ostilità sociale e un diffuso atteggiamento pessimistico. Beh, sono proprio io. Siamo tutte quante.